... ... Grazie Grazie O sa o speria te ratuștele O sa o speria te ratuștele O sa se va deshide Ai? Tocmul O sa putea! Un lucru C questions Bine Bine Caps Bine Bine si ti prende l'alapa ma tu non vrei sa prende il peste ma ca Uite un preste mare Vrei? Da Haa Haa Brosca s-a dus la of Of da Voi Ma 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 Grazie a tutti